Se c'è una cosa che Forever conosce bene è l'aloe vera. In effetti ci riteniamo veri e propri esperti di aloe. Siamo orgogliosi di essere i maggiori coltivatori e produttori di aloe vera e di prodotti a base di aloe nel mondo. Per questo trattiamo i 50 milioni di piante nelle nostre coltivazioni in modo diverso. Controlliamo ogni fase del processo, dal momento in cui l'aloe viene piantata fino a quando finisce nelle tue mani. Grazie alla filosofia dalla pianta al prodotto a te possiamo controllare appieno le modalità con cui la nostra aloe viene coltivata, raccolta, lavorata e confezionata in modo che tu possa ottenere la massima qualità al miglior prezzo possibile. A differenza di altre aziende che usano attrezzature molto ingombranti la nostra aloe viene coltivata, raccolta e lavorata a mano per estrarne delicatamente il ricco gel di aloe contenuto all'interno delle sue foglie entro poche ore dalla raccolta, offrendoti così un gel di aloe vera assolutamente puro e fresco, così come natura vuole. Giriamo il mondo intero alla ricerca di ingredienti naturali e scientificamente avanzati in grado di sostenere e potenziare i benefici dell'aloe e li usiamo a livelli clinicamente attivi, una differenza che si vede e si sente. La nostra passione per l'aloe e per i nostri prodotti contraddistingue anche i nostri stabilimenti dove investiamo continuamente in tecnologie e attrezzature all'avanguardia per garantire processi di produzione, controllo qualità, confezionamento e distribuzione senza rivale. Questi sono solo alcuni dei motivi per cui siamo l'Aloe Vera Company.